Nulla da dichiarare. Fratelli d'Italia ha appena proposto Crosetto. Guardi, stamattina c'è stato un vertice del centraresco, la strategia della cittadina di leader. Io adesso devo scattare. E dove va? Davvero, devo andare al Senato che c'è una punta. Ma ve l'hanno comunicata questa scelta quelli di Fratelli d'Italia? Eh, ragazzi, davvero, fatti bravi, dai. Ma lei che cosa ne pensa? Io non posso rispondere a nulla, potete immaginare anche voi il perché. In questi frangenti meno si dice, meglio anche. No, tutti, grazie.